Salve e buonasera a tutti, l'annuncio del presidente Donald Trump sui nuovi dazi spinge il rosso, il comparto azionario europeo, DAX che chiude a meno 2,02%, poi l'asseguire il Libex a meno 2,28%, il CAC di Parigi a meno 2,01%, FUTS di Londra a meno 0,83% ed infine abbiamo il FUTS Mimbo che chiude a meno 2,28%, quindi forti vendite sul comparto azionario europeo per quanto riguarda invece le news che sono state rilasciate nella seduta odierna l'attività manufatturiera in Germania rimane in una fase di contrazione ma migliora rispetto al mese precedente secondo la lettura finale elaborata da IHS Markit l'indice PMI manufatturiero si è attestato a novembre a 44,1 punti in aumento dai 42,1 punti di ottobre e dai 43,8 punti della stima preliminare pur rimanendo in una fase di contrazione l'attività manufatturiera nell'eurozona invece migliora a livello più alto in tre mesi secondo la lettura finale elaborata da IHS Markit l'indice sempre il PMI manufatturiero della zona euro si è attestato a novembre a 46,9 punti in aumento dai 45,9 punti di ottobre e dai 46,6 punti della stima preliminare sebbene abbia riportato un decente miglioramento il PMI è rimasto ben al di sotto della soglia critica di un cambiamento di non cambiamento dei 50 punti e ha esteso l'attuale periodo di contrazione a 10 mesi peggiore invece delude le attese l'indice ISM manufatturiero americano del mese di novembre il dato si è attestato a 48,8 punti rispetto ai 48,3 della precedente rilevazione il consensus di Bloomberg si attendeva un dato in miglioramento a 49,2 punti domani invece per quanto riguarda il calendario macroeconomico di martedì 3 dicembre alle ore 5.30 abbiamo dall'Australia abbiamo il primo meeting dell'ultimo mese di dicembre appunto del 2019 e ad aprire il meeting sarà appunto la banca centrale australiana con i tassi di interesse a seguire alle ore 10.30 dalla Gran Bretagna all'indice di direttori di acquisti del settore delle costruzioni di novembre e poi alle 22.30 scorte settimanali di petrolio bene per quanto riguarda invece dal punto di vista operativo il mese di dicembre non poteva quindi iniziare nel migliore dei modi effettivamente abbiamo 8 risultati utili di fila che già hanno spinto le quotazioni al momento abbiamo 320 punti mentre invece restiamo ancora in stand by per quanto riguarda la situazione legata agli indici che tra un po' andremo a analizzare e per quanto riguarda anche l'azionario quindi 320 punti con andiamo a vedere invece la situazione ultimo target andiamo a vedere proprio gli ultimi target partiamo proprio dagli ultimi target 2 sd franco raggiunti il primo e il secondo target dell'operazione v 65 del 27 novembre primo target raggiunto esattamente al 0 99 e 50 secondo target a 0 99 e 20 quindi forte movimento ribassista su questa zona di demanda dove il prezzo viene come ha reagito bene ad questa zona già diciamo in passato già ci sono state delle reazioni e in più siamo in area 61 e 8 quindi due primi due target della giornata poi per quanto riguarda abbiamo sterline a yen andiamo a vedere anche la situazione legata a sterline a yen dove anche qui abbiamo chiuso abbiamo raggiunto il secondo target l'operazione v 66 a 141 anche qua vedete abbiamo assistito ad una movimentazione una zona vedete come ha mantenuto sotto il livello di prezzo esattamente a 141 e 56 da questa zona è partito un ottimo movimento a ribassi adesso stiamo in correzione con quindi operazione v 66 eccola qua che chiude altri 50 punti quindi poi abbiamo i 90 punti su gbb aud secondo target a 1 89 e 85 quindi ripeto abbiamo us di franco us di franco abbiamo us di franco sono stati raggiunti tutte e due scusatemi qua c'è un errore quindi devo aggiungere addirittura altri 30 punti quindi uguale 30 più quindi sono 80 punti quindi vado a 300 andiamo a 350 punti perché l'abbiamo visto prima praticamente abbiamo abbiamo raggiunto 0 99 0 99 50 oggi è 0 99 e 20 poi andiamo invece abbiamo detto gbbn eccola qua 80 punti quindi siamo arrivati a 80 punti abbiamo raggiunto il secondo target a 141 poi euro dollaro ho chiuso l'operazione ho chiuso direttamente l'operazione a mercato il terzo target era 109.75 ma il prezzo ha iniziato ad avere una buona movimentazione a rialzo quindi ho deciso di chiudere a più 35 punti new zeland dollaro primo target della giornata esattamente chiuso alle 9.15 quindi praticamente 65 punti quindi poi abbiamo abbiamo visto us di franco us di ena l'abbiamo detto quindi 25 più 55 punti quindi 25 0 99.50 e 0 99.20 sterling a dollaro astraliano raggiunto il secondo target a 1.8985 90 punti adesso proprio andiamo a vedere graficamente eccolo qua con il terzo target ancora a mercato e stiamo a 100 punti di profitto dove in pratica in questo momento stiamo a 100 punti di profitto con il target a 130 punti a pochi punti sopra al pivot mensile è stato proprio sfiorato un paio di ore fa vediamo un po' se riusciamo a raggiungere a chiudere quindi un altro nono risultato utile di fila anche qua quindi il movimento ribassista si è formato al di sotto un breakout del livello di prezzo 1.90 e 1.93 e poi c'è stato un bel movimento ribassista proprio oggi mentre invece per quanto riguarda le operazioni che le ultime operazioni andiamo a vedere anche sterlina dollaro il cable il cable ho dato sempre sell un'indicazione sell l'operazione v05 eccola qua stiamo intorno al prezzo di ingresso al mercato aspettiamo qualche movimentazione ribassista anche qua abbiamo 3 target poi molto interessante proprio ultima operazione data all'interno della chat telegram circa alle 18 e 15 precisamente euro e yen in operazioni a mediazione delle altre operazioni che si trova sotto in area 120 e 10 vedete come il prezzo è andato ad reagire su questa zona importante zona di di demand di supply scusate eccola qua vedete quindi è andata a riprendere le votazioni in questa zona e da qua potrebbe partire una nuova movimentazione al ribasso siamo proprio vicino al trigger point al prezzo di ingresso al mercato posizionato a 120 e 75 stop loss 121 80 primo target 120 e 45 secondo target 120 e 15 terzo target 119 e 75 sempre per quanto riguarda il comparto allutario stavamo controllando con attenzione anche lo scenario su eurocad al momento anche qua vedete siamo arrivati in una zona molto interessante dove ci sponiamo un attimo sul sul grafico giornaliero dove vado a inserire color level eccolo qua così l'indicatore che ho dato così si vede meglio il movimento vado a tracciare la zona di supply eccola qui quindi eccola qua come vedete è ritornata un'altra volta su questa zona quindi per la terza volta di fila e niente aspetto siamo sul giornaliero quindi aspetto la chiusura della della candela sul giornaliero anche se adesso vedete già sta reagendo in ottica H4 per poter poi entrare a mercato in vendita quindi situazione anche qua molto interessante per un'opportunità di vendita mentre invece per quanto riguarda eurofranco su eurofranco abbiamo possibilità di entrare a mercato sell al breakout di questa zona di questo minimo aspettiamo anche qua un ingresso oppure una possibile correzione poi per quanto riguarda le commodity US crude US crude che praticamente cade verso il basso quindi abbiamo ecco rimbalzo un enesimo ribalzo di area 55 78 da questa zona sinceramente potrebbe partire qualche movimentazione al rialzo quindi 115 220 punti questi sono i vari i vari target sul giornaliero si vede molto bene aspettiamo anche qua cosa ci offre stasera oppure alla chiusura della candela giornaliera poi andiamo a vedere anche oro oro che reagisce molto bene dalla zona di demand dalla zona di cluster area buy vedete il gran movimento cambio netto cambio di tendenza tutto appunto ad valuta rifugio la valuta rifugio che diventa quindi la commodity valuta rifugio per eccellenza l'oro ed in contrapposizione del movimento long sul l'oro come abbiamo analizzato prima abbiamo invece le abbiamo gli indici che hanno premuto sull'acceleratore al ribasso andiamo a vedere partiamo dal DAX ho indicato stamattina all'interno della chat telegram una possibile zona bearish andiamo a vedere cosa sta succedendo bene per quanto riguarda il DAX come avevamo indicato stamattina le quotazioni hanno superato abbondantemente l'area di dove aveva indicato in caso di una rottura di sotto questa zona ovvero 13.160 13.140 ci poteva stare una movimentazione al ribasso mi aspetto una correzione per poi entrare sella al mercato quindi in questo momento vedete le quotazioni stanno proprio rimbalzando su questo livello di prezzo precisamente in questo live supporto 12.958 e 30 da qua potrebbe partire vado a segnare anche il potrebbe partire un mi aspetto una correzione per poi entrare sell a mercato mentre invece stessa situazione per quanto riguarda il Dow Jones andiamo a vedere invece il Dow Jones che cosa ci dice allora andiamo a vedere un po' la situazione per quanto riguarda invece il Dow Jones aspettiamo dopo il movimento forte movimento ribassista che ha caratterizzato la giornata con un crollo di circa di quasi 200 punti aspettiamo una correzione per poter poi entrare a mercato al ribasso stessa situazione per quanto riguarda il Dow Jones quindi anche per quanto riguarda il Dow Jones aspettiamo una correzione dopo appunto il movimento di circa quasi 400 punti quindi per poter poi entrare sempre in vendita correzione che ci permetta appunto di poter quindi che ci conferma quindi il possibile cambio di tendenza sugli indici oppure una correzione profonda più profonda rispetto alla ai movimenti precedenti bene per stasera è tutto grazie mille per l'attenzione ci aggiorniamo domani mattina con la seconda diretta live della settimana alle ore 8 e 30 buonasera da tutti